Noi anche su indicazione richiesta da parte del Presidente Schifani proprio alla luce di quanto è accaduto a fatti abbiamo costituito una commissione composta da professionisti esperti sia di tutto quello che sono le attività di pronto soccorso che in qualche misura anche di percorsi organizzativi, quindi diciamo direttori sanitari infermieri che hanno l'esperienza di governo di quello che sono i magazzini di reparto in maniera da poter far sì che possano visitare tutti i pronto soccorso della Regione e insieme agli operatori di questi trovare eventualmente se ci sono, verificare se ci sono delle difficoltà e in un grande rapporto di collaborazione trovare soluzioni che possano essere sia specifiche che eventualmente allargate e trasferite anche alle altre realtà perché l'obiettivo del Governo regionale e del Presidente è quello di dare la maggiore serenità possibile a un lavoro così difficile già di suo ma ha reso ancora più difficile e stressante in una situazione di grave carenza di personale.